Gioco fermo, scontro a metà campo tra Zapata e Romagnoli, ha avuto l'arpeggio, il difensore della Lazio ha perso un po' di sangue dal naso, è lì ancora in campo, partita dunque per il momento interrotta che riprenderà a breve, vediamo lo staff medico della Lazio che è da Romagnoli, ma sicuramente il difensore della Lazio riprenderà. Osimène per il raddoppio della Napoli, solo davanti alla portiera, Osimène ha un'esultanza piuttosto contenuta, la sua non quella del pubblico, Napoli 2, Udinese 0, 39esimo di nuovo olimpico. Grazie a Daniele Fortuna, Romagnoli a bordo campo, sta parlando, vediamo con il quarto uomo perché rivendica una gumitata da parte di Duvan Zapata, si riprende a giocare, tra l'altro il fallo l'aveva commesso anche il difensore della Lazio, 0-0 olimpico, 38 e mezzo sul cronometro.